Benvenuto all'Inter. Cristian, che emozioni stai provando in questo momento? È un'emozione bellissima. Ho 20 anni e indossare questa maglia per me è un'emozione unica. Non vedo l'ora di iniziare questa stagione e cercherò di dare il massimo. La tua è una storia un po' particolare. Sei nato in Albania ma ti sei trasferito subito in Italia, un paese in cui sei cresciuto come ragazzo e come calciatore. Avresti mai immaginato che un giorno saresti arrivato qui? No, non l'avrei mai immaginato. Sono partito dall'Albania quando avevo due anni. Sono arrivato in Italia a due anni, ho fatto tutta la scuola qua, ho iniziato a giocare a calcio in Italia e non mi sarei mai immaginato questo. Chi ti ha visto crescere ha raccontato che da piccolo non ti separavi mai del palone. Quali giocatori ti ispiravi da bambino e poi come ti descriveresti in campo? Non lo so a chi mi ispiravo, però è vero, non mi staccavo mai dal pallone. Guardando le partite le guardo tutte perché cerco di rubare qualcosa a tutti i centrocampisti. Mi piace guardarli e adesso ho la fortuna di giocare con Brozovic che è un mediano fortissimo. Sei giovanissimo ma hai già avuto una crescita importante e esordito in Serie A solamente nella passata. stagione ma hai collezionato grandi prestazioni e l'Inter ha deciso di puntare su di te. Quali sono i tuoi obiettivi, fin dove vuoi arrivare? Non lo so, i miei obiettivi non li so ancora, guardo passo dopo passo, però sono molto felice di aver esordito così presto. Ringrazio l'Empoli e devo molto a l'Empoli e adesso sono qua e cerco di dare davvero il massimo. A proposito della passata stagione, il tuo primo gol in Serie A è arrivato proprio contro l'Inter a San Siro, un segno che forse avevi già un legame speciale con questi colori. Si può darsi, è vero. È arrivato il primo gol, ero molto felice e adesso forse sono ancora più felice. Immaginiamo che non vedrai l'ora di giocare davanti ai tifosi nerazzurri. Hai un messaggio per loro? Certo, no, io sono pronto e non so cosa dire. Dico solo a loro di sopportarci il più possibile. Grazie mille e benvenuto. Niente, grazie mille. Grazie mille.